Michael grazie, allora capitano voglio, perché poi dobbiamo ovviamente chiudere sulla Champions, però capitano Martedì, no ti vedo Cosa? No, voglio arrivare il martedì con quella sensazione, come si arriva a queste partite, bisogna ribaltare un 1-0 consapevoli che si può fare Beh, con l'ingresso di Ossiman abbiamo visto già, e vedremo una squadra diversa perché comunque è già la sua presenza da tanti stimoli ai propri compagni, e quindi la gara sarà una gara tosta e bella, perché comunque ci sono tutti i presupposti insomma, se si gioca qualcosa di incredibile, di forte, oltre al campionato, quindi possiamo noi, loro immaginano, ma noi lo immaginiamo ancora più di loro Tu hai marcato il famoso Rensenbring nella semifinale di Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht che era un fuoriclasse, era un giocatore importantissimo Vabbè, quello facciamo Era il compagno di Cruyff nazionale, per capirci, nella famosa Olanda E hai marcato nel Real Madrid Santigliano, non ricordo male? Sì, sì, sì Che era un centravanti? Qualcuno l'ho marcato pure io Eh, voglia! Come si affrontano questi avversari in queste vigili? Pensate che Saola a te ti martellava, no? Che diceva? Ma non c'è bisogno di martellare, perché queste le gare dove ogni giocatore già è carico di sé Per sé, già è carico, perché non c'è bisogno che l'allenatore deve stimolarlo Quindi l'allenatore spera subito che arrivi il momento di arrivare allo stadio Perché comunque la tensione è altissima già da oggi e quindi fino a dopodomani Quindi la tensione c'è Quindi la cosa migliore è quella di prendere le cose in questi due giorni nel migliore dei modi Tu che facevi? Di distraervi un attimo? Di astraervi? No, la cosa che sta insieme, se stanno insieme è bello perché comunque è un momento particolare dove si può Ma te lo studiavi l'avversario per esempio? L'avversario sì, la prima cosa è chiara che io devo sapere come l'avversario dove predilige Dove è la zona più che lui insomma gli piace stare e quando riceve se è corta, se è lunga Insomma tante cose, tu lo sai io giocavo in anticipo E per fare questo dovevo guardare quello che metteva palle Dovevo guardare pure i movimenti del mio avversario Quindi una grande preparazione c'era, non è che era roba inventata E tu che hai giocato la finale, la finale di Coppa UEFA da campione Coppa UEFA non ti fa la palla